Bentornati. Nel settembre del 1940 i governi di Roma, Berlino e Tokyo sottoscrivono il cosiddetto patto tripartito, ovvero un accordo che prevede una spertizione in area di influenza del mondo. Alla Germania spetta l'egemonia sul continente europeo, all'Italia il predominio sul Mediterraneo e al Giappone il controllo dell'Asia orientale. Questo ambizioso programma sembra sul punto di realizzarsi nell'estate del 1942, quando le potenze del patto tripartito raggiungono la loro massima espansione territoriale. Sia la Germania, sia il Giappone e in misura minore l'Italia cercano di imporre nei territori occupati un nuovo ordine basato sulla supremazia della nazione eletta e sulla rigida subordinazione degli altri popoli alle esigenze dei dominatori. Questo sistema pianificato di sfruttamento e di terrore, questa germanizzazione e nipponizzazione dei popoli inferiori, nell'immediato porta considerevoli vantaggi. Innanzitutto una riserva infinita di manodopera gratuita, un enorme predievo di ricchezza, un flusso continuo e consistente di materie prime. E tuttavia è necessario, per poter mantenere in vita questo modello barbarico di sfruttamento, la presenza di forti contingenti di truppe, il che suscita forti ondate di odio che non di rado sfociano in moti di ribellione. Infatti in tutti i paesi dominati dai tedeschi si sviluppa una guerrita resistenza, la quale si esprime nelle più svariate modalità, per esempio attraverso la raccolta e la trasmissione agli alleati di preziose informazioni, attraverso il sabotaggio, attraverso la lotta armata oppure attraverso la diffusione di materiale propagandistico. In Italia, in Francia, in Ciclosovacchia, in Jugoslavia, la resistenza diventa spesso anche un laboratorio politico decisivo per la costruzione dei futuri assetti della nazione. E però abbiamo anche l'altra faccia della luna, il lato oscuro nascosto della luna, e cioè molto spesso questi dominatori trovano all'interno dei paesi occupati dei volenterosi fiancheggiatori. Qualche volta lo si fa per motivi, tra virgolette, interni, cioè per idee radicate, per motivazioni profonde. Qualche altra volta lo si fa per motivi esterni, cioè per calcolo, per opportunismo, per carrerismo, per conformismo. Questo sostegno attivo alle forze d'occupazione si esprime per esempio attraverso la denuncia degli ebrei o dei partigiani. In alcuni casi addirittura si arriva ad indossare la divisa, combattendo al fianco dell'invasore. Ora, gli inglesi e gli americani, in modo concorde, decidono di concentrare tutti i loro sforzi militari contro la Germania di Hitler e di tener a bada il Giappone. Solo dopo la caduta di Hitler si penserà a come mettere il Giappone in condizione di non nuocere. E però Stalin incita con grande energia i suoi alleati Churchill e Roosevelt ad aprire un secondo fronte, a far sbarcare in Europa le forze alleate. Questo perché? Per alleggerire la pressione nazista sull'Unione Sovietica. Roosevelt appare favorevole ad accogliere rapidamente questo accorato appello di Stalin. E però alla fine provare la linea degli inglesi, una linea strategica più prudente, più astuta, e cioè si può preparare l'apertura del secondo fronte, ma non improvvisarla. E dunque è necessario passare attraverso due momenti fondamentali. Primo, una pesantissima azione di bombardamenti per indebolire il dispositivo militare tedesco. Così a partire dall'autunno del 1942 si sviluppa con intensità crescente una devastante offensiva aerea. Quei bombardamenti terroristici indiscriminati che i tedeschi avevano elargiti con grande generosità nei confronti degli inglesi vengono restituiti con gli interessi. In secondo luogo bisogna aprire altri fronti secondari per dividere e disperdere le forze tedesche. Abbiamo così a partire dall'autunno del 1942 lo sbarco in Marocco, ad Algeri, nella Cirenaica e nella Tripolitania. La controffensiva anglo-americana nel Mediterraneo prepara l'assalto alla fortezza europea.